Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo ad analizzare la release beta di Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat rilasciata giovedì scorso. Solo per quest'anno la release ha subito un ritardo di una settimana a causa della backdoor presente sul pacchetto XZ e quindi Canonical ha deciso di posticipare il rilascio della beta di una settimana per non prendersi dei rischi. Il congelamento degli sviluppi è avvenuto qualche settimana fa, ragion per cui tutto quello che andremo ad analizzare oggi verosimilmente lo ritroveremo all'interno della release ufficiale prevista per il 25 aprile. Ma non perdiamoci quindi in chiacchiere e andiamo ad installare Ubuntu 24.04 beta per scoprire che cosa c'è di nuovo. Prima di procedere come al solito io vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, per restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Ubuntu 24.04 è la long term release di questo biennio e sarà supportata udite udite non per i prossimi 5 anni come siamo abituati, bensì fino a 12 anni. Se non conoscete la differenza fra standard release e LTS qui in alto a destra vi lascio il link ad un video che ho preparato un po' di tempo fa. L'avatar di questa release è un nobile formichiere. La prima importante novità la troviamo nel processo di installazione, rinnovato sia nelle immagini che nelle descrizioni testuali, ad oggi più comprensibili e parlanti. L'ordine del flusso di installazione è stato modificato ed è stato inserito un nuovo pannello per configurare al meglio l'accessibilità. Inoltre è stato introdotto il concetto di provisioning. In questo modo il programma di installazione di Ubuntu 24.04 consente agli utenti di definire un file YAML contenente una configurazione precompilata per automatizzare il processo. E' bene ricordare che a partire dalla versione 23.10 Ubuntu ha come impostazione predefinita un'installazione di default che prevede l'installazione di un set ristretto di software. Per chi ha bisogno di applicazioni come LibreOffice, Readbox, Nom Calendar, eccetera, deve scegliere l'installazione stesa durante l'installazione. La seconda novità riguarda il desktop environment che prevede l'aggiornamento a Nom46, il cui rilascio è avvenuto il 20 marzo scorso. Nom46 introduce importanti miglioramenti al gestore di file, Files, o Nautilus, come alcuni di noi lo chiamano ancora. Il suo orizzonte di ricerca è stato ampliato, le sue prestazioni migliorate e l'esperienza complessiva dell'utente è stata resa più efficiente ed efficace. Il risultato? La gestione dei file è decisamente più semplice. Il pulsante di ricerca nella parte superiore della barra laterale potrà essere utilizzato per la ricerca globale. Possiamo quindi cliccare su questa icona per cercare file o cartelle in tutte le posizioni indicizzate, includendo i percorsi aggiunti all'interno del pannello impostazioni. Se invece vogliamo limitarci a cercare solo nella directory corrente, non dobbiamo fare altro che cliccare sul nuovo pulsante presente nella barra degli strumenti accanto alla barra del percorso. In questo modo avremo due modi diversi e distinti di cercare file e cartelle, uno locale ed uno globale. L'avanzamento durante il trasferimento dei file è stato spostato in basso a sinistra, rendendolo visibile a colpo d'occhio. Cliccandoci su è possibile consultare la velocità di trasferimento e la stima del tempo rimanente delle operazioni attive. E a proposito di trasferimenti, Nautilus ci avvisa se cercheremo di copiare o spostare un file di dimensioni superiori a 4 GB su un'unità o una partizione FAT. In precedenza il file manager copiava fino a 4 GB per poi fallire inesorabilmente. Inoltre il passaggio tra la visualizzazione dei file da miniatura ad elenco è ora istantaneo. Sembra una cosa di poco conto ma in pratica è stato fatto un lavoro di minuzia con l'obiettivo di rimuovere glitch e sfarfallii. Fra gli altri miglioramenti troviamo un nuovo campo di ricerca nel pannello delle preferenze per individuare più velocemente le impostazioni, la possibilità di modificare manualmente la posizione con un clic singolo sulla barra del percorso e la creazione di zip protetti che ora richiede la conferma della password. In Nomeshell 46 le notifiche sono state completamente ridisegnate. I toast hanno ora un'intestazione compresa d'icona con il nome dell'applicazione da cui proviene l'avviso. Inoltre le notifiche con pulsanti o con molto contenuto possono essere collassate ed espanse, comportamento che vale per qualsiasi tipologia di notifica. Queste modifiche si sono rese necessarie per supportare il raggruppamento, una funzione molto richiesta a cui gli sviluppatori stanno lavorando per includerla in una futura release. Infine le fastidiose notifiche sulla rimozione dei dispositivi non resteranno fisse a schermo dopo che un'unità è stata effettivamente rimossa. In Nome 46 l'applicazione impostazioni è stata modificata e presenta una serie di nuove funzionalità che dovrebbero semplificare la personalizzazione del sistema in base alle proprie esigenze. C'è un nuovo pannello sistema che raggruppa diverse impostazioni in precedenza suddivise in un unico posto. Esso include regione lingua, data e orario, utenti, desktop remoto e secure shell, oltre che a mostrare le informazioni di base su hardware e software di sistema. Inoltre per poter modificare le applicazioni predefinite è necessario spostarsi all'interno del pannello applicazioni per scegliere quali applicazioni aprire per determinati tipi di file. Per quanto riguarda gli altri pannelli sono stati rivisti anche tooltip, etichette e spiegazioni. Per gli utilizzatori di account online l'autorizzazione per gli account ora viene tramite browser e non più tramite una webview. Questo ha decisamente un impatto sulla sicurezza in quanto oltre a poter vedere l'url completo con cui si effettua l'accesso potrebbe di fatto tradursi nella possibilità di utilizzare anche metodi di autenticazione alternativi. Fra le applicazioni che hanno subito un restyle estetico ma soprattutto funzionale troviamo il calendario, mappe, loop, musica, epifani, estensioni GNOME e software. Inoltre l'applicazione Cheese Webcam è stata sostituita da Snapshot. I giochi di GNOME sono stati rimossi e il client di posta elettronica Thunderbird e ora un pacchetto Snap. Per il resto tutto è rimasto come prima e ogni applicazione è stata aggiornata alla versione più recente, come LibreOffice 24.2, Transmission 4.0 e Libre Riemesa alla versione 24.03. Dal punto di vista prettamente tecnologico Ubuntu 24.04 utilizza il kernel Linux 6.8.11 che porta numerosi miglioramenti delle prestazioni e la correzione di alcuni bug. In particolare, tra le novità del nuovo kernel troviamo un miglior supporto alle CPU Intel Meteor Lake che riescono correttamente a raggiungere le frequenze di boost come da specifica. Il supporto al controller Nintendo Switch Online, mitigazioni RFI per risolvere problemi con il Wi-Fi su alcuni laptop AMD e miglioramenti di Z-Swap. Lo stack di rete è stato aggiornato a Netplan 1.0, consentendo il supporto di connessioni WPA2 e WPA3 simultanee. Mentre una nuova versione del Power Profile Demon offre miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza energetica per i notebook, soprattutto per quelli equipaggiati con tecnologia AMD. In seguito a diverse segnalazioni da parte degli utenti, gli sviluppatori di Ubuntu hanno aumentato in modo significativo il Virtual Memory Mapping. Questa piccola modifica dovrebbe avere un impatto rilevante su giochi come Hogwarts Legacy, Payday 2, Counter-Strike 2, DayZ e Star Citizen, dato che molti di questi si rifiutavano di avviarsi nelle versioni più recenti di Ubuntu a causa di questo problema. Per poter scaricare la beta di Ubuntu 24.04, navighiamo su releases.ubuntu.com.noble e all'interno di questa pagina andiamo ad individuare l'immagine ISO compatibile con l'architettura della nostra CPU. Nel mio caso io vado a scaricare la versione di Ubuntu 24.04 Beta Desktop AMD64.ISO. Clicchiamo su questo link, dopodiché partirà il download. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate in merito alle novità previste per la release ufficiale di Ubuntu 24.04 LTS. Se avete dubbi, domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto, sarò felice di rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like e se i miei video vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!